Elsa! Oh, grazie a Cianna! Tutto a posto? Che volevi fare? Potevi morire! Non puoi seguirmi nel fuoco! Se non vuoi che ti segua nel fuoco, allora tu non buttarti nel fuoco! Non sei abbastanza cauta, Elsa! Mi dispiace, tu stai bene? Sono stata meglio. So cosa ti serve. Dove avete preso quello scialle? È uno scialle dei Nortoldri. Cosa? È di una delle nostre più antiche famiglie. Era di nostra madre. Elsa, ora capisco. È la mamma. La mamma ha salvato papà quel giorno. Nostra madre era una Nortuldra. Nostra madre era una Nortonda. No! Grazie a tutti. Ci chiamiamo Northuldry. Noi siamo il popolo del sole. Ve lo prometto. Libererò la foresta e salverò Arendelle. È una promessa impegnativa, Elsa. Liberare la foresta? Però, scusa, è solo... Alcuni di noi sono nati qui. Non abbiamo mai visto il cielo limpido. Capisco. Mi chiamo Ryder. Christophe. Ho risentito la voce. Dobbiamo andare a nord. Ma i giganti di terra vagano a nord di notte. Potrai partire domattina. Mi chiamo Animeren. Animeren. Faremo il possibile.